Ci troviamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Siamo dinanzi alla portineria C di Ilva Arcelor Mittal, proclamata la giornata di sciopero, l'indifferenza assoluta di Arcelor Mittal, le mancate risposte del governo. Rizzo, una iniziativa quella di oggi, come dire, che trova una maggiore giustificazione alla luce dell'incontro che avete avuto a Roma con il ministro Patuanelli. In buona sostanza il governo vi ha dato ragione, ma poi gli interventi, il mandare via Arcelor Mittal non avviene. Com'è andata questo incontro? In realtà l'incontro secondo noi non è servito assolutamente a nulla. Patuanelli ha ribadito quanto già aveva detto nell'incontro precedente. Dopo l'intervento di Sascha Colauti dell'USB nazionale ha detto che sono d'accordo con quello che dice USB. Il paradosso è questo, sei d'accordo con noi che Mittal non è il soggetto giusto? Addirittura ha apostrofato con una frase che noi abbiamo riportato all'interno del comunicato, dicendo che affidare allo stabilimento di Arcelor Mittal è stata una cazzata. Un riferimento alla scelta di Calenda, diciamo. Un riferimento alla scelta di Calenda. Il paradosso però poi è alla fine che il governo non fa nulla per allontanare Arcelor Mittal, anzi continua a trattare con Arcelor Mittal sapendo che la condizione all'interno della fabbrica, sia per i dipendenti diretti, sia per i lavoratori vina esse, ma soprattutto per quelli dell'appalto, è una condizione di disperazione generale. Ma anche lì ci continuano a dire che non possiamo dirvi alcune cose, c'è una trattativa segretata, il 30 novembre lo scoprirete. Quindi noi arriveremo al 30 novembre con il piatto servito, giorno in cui il sindacato poi a un certo punto dovrà decidere se appoggiare l'azione di governo oppure probabilmente far scoppiare il caos, ma a bocce ferme sarà molto più complicato. E' proprio contraddittorio il fatto che il governo voglia dare una svolta attraverso l'intervento di una società partecipata, qual è Invitalia, e poi ovviamente si tenga questo bubone che è Arcelor Mittal. C'è qualcosa di strano che non si spiega, o meglio si potrebbe anche spiegare, una subalternità, non so come definirla, una schiavitù del governo rispetto ad Arcelor Mittal. Cioè tutto si può toccare ma non Arcelor Mittal. Sì, allora una delle tante contraddizioni è che al penultimo incontro Patuanelli dice io la penso come USB, quindi dobbiamo allontanare Arcelor Mittal, però a differenza vostra io credo che Arcelor Mittal vada cacciato dopo avergli fatto pagare la penale di 500 milioni. Io rispondo dicendo ti metto per iscritto che la penale non la pagheranno mai, anzi faccio una battuta... Ma non pagano il fitto? Perfetto, non pagano il fitto, non stanno pagando i fornitori, le aziende d'appalto sono sotto ricatto con la storia della blacklist e faccio notare a tutti che praticamente dal mese di agosto le aziende non fiatano più perché anche lì il messaggio che è passato è che se ti lamenti non ti faccio neanche più lavorare. Cioè già lavori gratis, se non ti lamenti non ti faccio più lavorare. E questa è una condizione di ricatto che il governo riconosce ma su cui il governo non interviene. Vincenzo Mercurio, USB segretario di settore, abbiamo ascoltato attraverso le parole di Francesco Rizzo questa situazione incredibile. Prigionieri di Arcelor Mittal, un governo prigioniero di Arcelor Mittal e qui ogni giorno la situazione nello stabilimento si incancrenisce sempre più, peggiora di giorno in giorno perché non c'è nessun intervento e quindi è una nave allo sbando, alla deriva. Certo, noi siamo ostaggio di quello che sta succedendo oggi in questo stabilimento perché lo sgomento dei lavoratori è proprio questo. Noi siamo ostaggi delle angherie di questa azienda. Non per nulla le ultime azioni fatte sono quegli incontri fatti la settimana scorsa dove praticamente volevano accontentarci con qualche giro in più di personale che gira intorno all'azienda, all'interno dell'azienda per accontentare un po' gli animi. Ma questo non è, perché poi se vai a fare bene i conti abbiamo fatto un po' come le vacche di Mussolini, abbiamo spostato un po' di persone da una parte e dall'altra. Questo non è l'atteggiamento giusto per rendere più sicuro questo stabilimento. Infatti io ho chiesto più volte quali sono gli investimenti che stai facendo per rendere più sicuro lo stabilimento e ancora non ho avuto risposta. Dopo aver ascoltato i massimi rappresentanti sindacali di USB è giusto anche ascoltare proprio la base, i lavoratori. Siamo qui con il signor Pricelli. Immagino lo stato d'animo, il senso di precarietà che vivete. Sì, in effetti la situazione che stiamo vivendo oggi è una situazione veramente paradossale dove ci viene riconosciuta la cassa integrazione Covid. Potete immaginare lo stipendio Valenzi a giri intorno ai 900 euro. Di conseguenza un gruppo di operai si è recato dal sindaco di Taranto per mostrare l'eruro difficoltà giornaliere. Parlando con il sindaco abbiamo deciso di fare una petizione tra lavoratori con le richieste dei lavoratori. Ora stiamo facendo questa raccolta firme. Il sindaco sa che andremo da lui a consegnare queste firme con le nostre richieste. Dopodiché dobbiamo stare con la speranza che succeda qualcosa di positivo sia per i lavoratori che per le famiglie dei lavoratori. Giampiero Giusti, USB, un silenzio assordante quello del governo perché poi l'aspetto incredibile è che Arcelor Mittal ovviamente può anche fregarsene assolutamente della realtà dei lavoratori, della città di Taranto. Ormai lo abbiamo capito ampiamente e chiaramente. basti considerare che in uno degli ultimi incontri i sindacalisti parlavano e la Morselli sfogliava, leggeva il giornale. Quindi questa è l'immagine plastica del menefreghismo assoluto dell'azienda. Però è raccapricciante un governo, una posizione del governo che dà ragione però sembra avere le mani legate. Guardi, come ha detto giustamente lei, ciò che è paradossale è il comportamento del governo completamente assente. Se da una parte ci appoggia quella che è la nostra tesi poi in realtà la realtà dei fatti ci dimostra il contrario. Stiamo parlando di un'azienda, come hai detto più volte, presentata in pompa magna come l'azienda che avrebbe dovuto risollevare le sorti dello stabilimento e dell'intera città. Mi perdoni, giusti, ma anche qualche mese fa, solo qualche mese fa l'amministratore delegato Morselli in televisione alla RAI, a porta a porta diceva che lo stabilimento di Taranto è una perla, è uno dei migliori d'Europa. A detta sua sì, comunque se la Morselli, più che la Morselli, Mittal nella persona della Morselli ha dimostrato ampiamente quella che è la loro serietà. Volevano un tagliateste. Assolutamente, il discorso è capire chi voleva il tagliateste. Forse lo Stato non si è preso la responsabilità di attuare in prima persona quello che era il loro piano. Oggi ci ritroviamo di fronte a una situazione paradossale. una città, un'intera città, non solo lo stabilimento e la classe operaia messa in ostaggio di questa multinazionale che non ha bisogno di ulteriori parole. Torno a ripetere, ciò che emerge purtroppo è il senso di abbandono che si prova, ma un senso di abbandono da parte delle istituzioni. E dovrebbero invece garantire ben altro. Assolutamente, questo è sotto gli occhi di tutti. Siamo qui da due anni, non facciamo altro che parlare e rivendicare quelli che sono i nostri diretti, sia dal punto di vista occupazionale che a livello ambientale, perché stiamo parlando di impianti fatiscenti. L'unica cosa che è cambiata in questi due anni è proprio il deteriorarsi di questi impianti che non fanno altro che mettere quotidianamente a repentaglio la salute delle persone. Di fronte poi c'è uno stato completamente assente.